Estra ha distribuito 12 passamilioni ai soci, con Siac Prato, Coingazzarezzo, Intesa Siena, Viva Servizi Ancona. I dividendi sono stati approvati dall'Assemblea dei Soci che ha anche deliberato il bilancio 2018. Condomini Sostenibili è l'accordo tra Estra Clima con Fartigianato Prato e Ance Toscana Nord per la ristrutturazione energetica e consente i condomini di sostenere solo il 25% dell'intervento. Estra è in partnership con Chianciano Terme, il comune toscano in provincia di Siena, a sostegno del programma della località termale di Città Europea dello Sport. Al Via la campagna Estra ti avvicina e ti informa sui bonus sociali luce e gas. Estra ha distribuito nel 2018 26.000 bonus a famiglie in difficoltà per bollette ridotte di quasi 100 euro annue per ogni tipologia di bonus. Grazie a tutti!